Buon pomeriggio anche dal Del Duca, abituato alle grandi rincorse, Lascoli cerca la prima vittoria in casa contro una Sampdoria dal rendimento altalenante ma che in trasferta non ha mai perso. Ci vuole un'impresa e Castori ci prova nella giornata in cui all'organico in emergenza. Bianconeri in campo con Guarna tra i pali, Gazzola, Peccarisi, Giovannini e Faiska in difesa. Papa Vaigo, Parfè, Vitiello e Sbaffo. A centrocampo Soncin e Romeo in attacco. Nelle file brucerchiate torna Gastaldello, sono disponibili Palombo e Foggia, non convocato Maccarone. Vedremo una Sampdoria con Romero in porta, Rispoli, Gastaldello, Costa e Castellini nel pacchetto difensivo. Foggia, Palombo, Bentivoglio e Semioni sulla tre quarti, Bertani e Piovaccari in zona d'attacco. Pomeriggio dal Cerovelato con temperatura intorno ai 14-15 gradi. 4.000 spettatori, 112esima direzione in carriera in serie B per Ciampi della sezione di Roma. Studio. Sforno 0, Regina 1 a te la linea. Attenzione, c'è anche il vantaggio dell'Ascoli su cross di stanco, la deviazione di un difensore della Samp. Si tratta di autorete, i minuti sono 4. Ascoli 1, Sampdoria 0. A voi la linea. Siamo ad Ascoli. E il quinto anche ad Ascoli dove l'Ascoli si è portato in vantaggio da circa un minuto in seguito a uno spunto di sbaffo sulla corsia di sinistra. E' arrivato un traversone sul quale ci è sembrato di vedere Costa, centrale difensivo della Sampdoria, intervenire di testa e spiazzare il proprio portiere per la più classica delle autoreti. Dunque partita sboccata dopo questo spunto di sbaffo già nel finale del primo tempo. L'Ascoli nell'ultimo quarto d'ora aveva pressato con insistenza senza trovare la via del gol. Nessuna sostituzione decisa nell'intervallo. Squadre in campo con gli stessi schieramenti del primo tempo. Adesso è la Sampdoria che deve provare a reagire dopo l'autorete di Costa che ha consentito a L'Ascoli di portarsi in vantaggio dopo 4 minuti. Adesso abbiamo superato il quinto, ricordiamo la nuova situazione. Ascoli 1, Sampdoria 0, torniamo a Vicenza. Con la partita è arrivato al trentasettesimo del primo tempo. Il pareggio della Sampdoria ad Ascoli con il gol di Piovaccari esattamente all'ottavo minuto del secondo tempo. E dunque la situazione torna in parità. Ascoli 1, Sampdoria 1 a Terralina. Livorno 0, Regina 1, Ascoli. E qui è l'Ascoli che ci prova al tredicesimo della ripresa. Ma intanto siamo sempre sul parziale di 1 a 1. Adesso è Papavaigo che va via. Sulla corsia di destra punta l'avversario. Cerca spazio in avanti, va in progressione. Poi l'intervento, il tecchere scivolato di Palombo che strappa il pallone all'avversario. Palla finita fuori dal terreno di gioco. Rivessa laterale che l'Ascoli si appresta ad effettuare. Dunque 1 a 1, botta in risposta in 4 minuti. Prima lo spunto di sbaffo aveva propiziato la sfortunata autorete di Costa al quarto minuto. E poi all'ottavo il pareggio della Sampdoria con Piovaccari di testa in tuffo su cross di Seniori. Per Federico Piovaccari, seconda rete stagionale in otto partite. Lo scorso anno, ricordiamo, era stato capocanoiere del torneo. Con 23 reti segnate con la maglia del Cittadella. Prova ancora Papa Vaigo, intanto il pallone è finito fuori dopo questo tentativo. Rimessa, affidata al portiere argentino della Sampdoria Romero che adesso ha affidato il pallone a Rispoli. 13 primi, siamo ancora sull'1 a 1. A voi Vicenza. Quindicesimo minuto. D'accordo forma, non è finita qui al Del Duca. 48 primi, si riprende a giocare in questo istante. Battuto il calcio di punizione dalla Sampdoria. Il tiro di Foggia ed è il gol che porta in vantaggio la formazione brucerchiata al terzo minuto della ripresa. Grande sconforto nelle file dell'Ascoli che fino a qualche istante fa aveva cercato il vantaggio. In pieno recupero, a pochi secondi dalla conclusione. La Sampdoria si porta sul 2 a 1. Conclusione velenosa di Foggia. Palla praticamente raso terra. Probabilmente il portiere avversario era scoperto. Scusa Raffa è finita a Livorno. Regina batte Livorno. 2 a 0 a te la linea. D'accordo. Confermiamo il gol di Foggia con il portiere dell'Ascoli-Guarna. Trafitto all'altezza del primo palo. Cioè del suo palo mancano davvero pochi secondi alla conclusione. Il gioco sta per riprendere. Samp in vantaggio. Sampdoria 2. Ascoli 1. Vicenza. Sentiamo Bari. D'accordo. Corsini scusami. Non dovrebbe mancare molto. Si è conclusa un'azione d'attacco alla disperata dell'Ascoli. Abbiamo superato il 49esimo minuto. Siamo nel recupero del recupero. Ricordiamo la nuova situazione. Proprio al 48esimo. Un minuto fa. La Sampdoria si è portata in vantaggio con una rete di Pasquale e Foggia. Concusione raso terra. Portiere sorpreso sul proprio palo. E adesso c'è Fornaroli che ha una possibilità in zona d'attacco. Il cross dalla parte opposta. Nessuno è in grado di intervenire sul pallone. Si alza Azzori dalla panchina. Fa segno a tutti che il tempo sta per scadere. Manovra ancora la formazione. La formazione bruciarchiata nella tre quarti campo dell'Ascoli. Si rifugia a questo punto. Nel possesso palla prolungato. Recupera comunque un pallone. La difesa dell'Ascoli che adesso va all'impostazione. Ma arriva anche il tripice fischio di chiusura dell'arbitro Ciampi della sezione di Roma. La Sampdoria ha battuto l'Ascoli per 2 a 1. Autorete di costa al quarto. Poi la rimonta bruciarchiata. All'ottavo il pareggio di Piovaccari. Al 48esimo in pieno recupero la rete della vittoria firmata da Foggia. Sampdoria 2. Ascoli 1 qui a Del Duca. La linea torna così. La linea torna così.